È un campionato sicuramente molto equilibrato quello che stiamo vivendo e sicuramente c'è da giocare con tutti dalla prima all'ultima giornata come se fosse una finale perché si può perdere con l'ultima come si può vincere con la prima quindi dobbiamo stare concentrati ogni partita e poi tiriamo le somme alla fine. È un campionato molto equilibrato e non c'è una corazzata diciamo oltre alla Casertana come organico però vediamo che comunque anche lei sta facendo fatica, ogni partita si deve giocare e quindi non c'è niente di scritto, il calcio è così e niente, dobbiamo stare sul pezzo ogni partita e dare il massimo e poi alla fine tiriamo le somme. Sono arrivato diciamo uno degli ultimi e diciamo all'inizio ho fatto un po' fatica a trovare spazio però con il passare del tempo diciamo che ho giocato qualche partita e spero di dare il mio contributo fino alla fine. Diciamo qua mi sento a casa e sono sempre stato bene sia tre anni fa quando è stata la mia prima esperienza che adesso che sono ritornato e niente spero sempre di dare il mio contributo e di ripagare la fiducia che mi è stata data. Come ho detto prima, ogni partita è difficile però sicuramente anche domenica la Zaghena è una squadra molto diciamo attrezzata però sono comunque alla nostra portata, siamo un grande gruppo e dobbiamo dare filo da torcere a tutte le squadre che incontriamo da qua alla fine. Come sappiamo abbiamo una grande tifoseria e loro ci possono solo dare una grande mano insieme a noi in campo soffrendo e gioendo insieme a noi quindi siamo ben lieti di accoglierli qua allo stadio e sicuramente sono una spinta in più per noi.